Euro Regioni News Sportività e passione Vecchie glorie calcio udinese contro FWG A Varmo nel campo sportivo comunale sono scesi in campo giocatori che tutti ricordiamo delle vecchie glorie dell'udinese calcio e la rappresentativa degli over 50 del comitato regionale FWG per festeggiare i 40 anni del suo dalizio con il sindaco Sergio Michelin alcuna intervista di fine partita Valerio Bertotto, uno dei giocatori più amati di sempre da parte dei tifosi dell'udinese Bertotto, intanto grazie per essere venuto qui questa sera ad alietarci con il vostro modo così simpatico ma naturalmente leale e corretto di giocare Come è andata la partita? Siamo divertiti, era lo scopo primario sicuramente, grazie dell'invito Ho fatto piacere rivedere un po' di amici, vecchi colleghi, calciatori con i quali magari non ho mai avuto modo di giocare però insomma hanno fatto come me la carriera da calciatore quindi è stata una bella serata sono contento e spero che la gente si sia un po' divertita Come l'Udine non dimentica te, penso che tu non dimentichi mai la gente di Udine Beh direi assolutamente di no, anche perché io sono arrivato qua nel 93 vivo ancora qua, quindi vuol dire che il legame è sicuramente forte Io ero nei distinti centrali a vederti quando hai esordito, mi ricordo benissimo e quindi ti abbiamo sempre seguito, grazie per tutto quello che hai fatto Due parole agli sportivi di Varmo che in questo momento si trovano in difficoltà perché siamo in terza categoria ma comunque cercheremo di aiutarci Sì sicuramente, lo sport a volte fa vivere dei momenti magari brutti anche per una società, per una squadra però per fortuna c'è sempre una nuova stagione nella quale ti metti in gioco nella quale riesci a competere, nella quale magari puoi cancellare delle annate o la stagione precedente brutta, quindi in bocca al lupo alla società Varmo Grazie, e dell'Udinese cosa ci puoi dire? Vedremo, vedremo, l'Udinese negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà sicuramente si sono palesate, adesso riprendo una nuova stagione speriamo che per loro e per tutti i tifosi dell'Udinese sia un po' meno problematica Bene, grazie della tua semplicità e della tua disponibilità che hai sempre dato, grazie Da che squadra provieni? Vecchie Glorie e Zoppola Cosa ti è sembrata la partita di oggi? Partita combattuta, ci è visto la differenza però tra le vecchie Glorie locali con le vecchie Glorie famose anche dell'Udinese chiaramente il risultato non contava per nessuno delle due però è stata una partita combattuta penso che lo spettacolo sia ben riuscito e siano stati molto contenti il vario pubblico che era presente E di fatti lo scopo era quello e di quello vi ringraziamo per quello che avete fatto Comunque ti abbiamo visto fare delle belle parate Quanti anni è che non giochi più a livello, se non amatoriale? Beh, io ho smesso a livello sportivo, a livello a 35 anni ho giocato con lo Zoppola, con il Bania siamo saliti anche di categoria fino alla promozione e poi ho smesso e da sempre, da sempre quando ho smesso ho sempre giocato con le vecchie Glorie sempre tenuto leggermente in forma È stata una bella partita combattuta ci siamo divertiti, come al solito è giusto così ci vuole lo spirito, mentalità vincente siamo tra amici ma si vuole sempre vincere come da bambini però è stata una bella partita e ci siamo divertiti Con Bertotto ho giocato tanti anni in Udinese dopo ho avuto Willy Pitana che ho giocato con lui nella primavera e qualcosa in prima squadra questi due diciamo, poi gli altri vabbè li conoscevo tutti però ho giocato con questi due in modo particolare È giusto il pari, è stata una partita contro una rappresentativa insomma che ha sempre grandi valori io gioco con le vecchie Glorie anche di Maniago perciò qualcuno lo conoscevo ma devo dire insomma che il livello è bello alto è bello giocare questo tipo di partite e poi anche il contesto di Varmo è molto bello Grazie, comunque ti seguiamo sempre nella tua vita calcistica e sportiva sei sempre stato un combattente con l'Udinese e per questo ti ringraziamo e continua pure Grazie, grazie Ma oggi dai bene, due a due è stata una bella partita perché io dico che alla nostra età siamo dei minorenni anziani quindi abbiamo ancora la voglia di correre, di misurarci sul campo e quindi il fatto di trovarci insieme ancora e fare queste partite ci fa molto piacere in più particolarmente a me che ho giocato nel campionato vecchie Glorie anzi cinque titoli viti con la San Vitesse negli anni passati quindi sono venuto molto volentieri insomma primo tempo sono state migliori le vecchie Glorie secondo tempo abbiamo esercitato magari approfittando del fatto che il caldo sia un po' andato siamo usciti un po' noi dalla distanza e il fine penso che il 2 a 2 sia il risultato giusto in campo avevamo 22 giocatori di movimento più altrettanti giocatori in panchina tutti amanti del calcio over 50 da una parte che rappresentavano le vecchie Glorie arrivati al loro quarantesimo anno di attività come campionato e dall'altra parte avevamo le vecchie Glorie dell'Udinese proprio Udinese Calcio quelli che ci hanno fatto sognare negli anni passati quando andavamo allo stadio a tifare Udinese in campo avevamo Dominicini, avevamo Rossitto, avevamo Marchetti, Bertotto, il capitano il famoso capitano erano praticamente tutti che ci hanno onorato con la loro presenza qua sul campo di Varmo e tra parentesi apro un elogio a chi tiene il campo perché hanno fatto i complimenti per lo stato del Manto Erbuoso una cosa veramente hanno detto roba da friuli proprio quindi è stata sicuramente una bella partita una bella partita giocata con i valori che dovrebbero rappresentare proprio il calcio rispetto dell'avversario e il divertimento alla base di tutto questo è lo spirito delle vecchie Glorie e penso che sia stato interpretato più che brillantemente dai protagonisti qui questa sera in campo come è giusto che sia alla fine il risultato di parità contenta a tutti e scontenta a tutti ma non era certamente il risultato quello che contava diciamo che le vecchie Glorie dell'Udinese hanno giochicchiato un po' pensavano, confidavano in una, tra virgolette, passeggiata invece hanno trovato dall'altra parte un osso duro come le vecchie Glorie del campionato nostro regionale e sono andati sotto di un gol poi hanno giustamente ripreso il risultato sono tornati in svantaggio con una doppietta del nostro Fabrizio che è stato protagonista, il match winner, un po' della situazione e poi hanno riacciuffato il pari verso la fine comunque il pari è giusto ma non è il risultato che conta non è il risultato che conta, assolutamente quindi una bellissima serata peccato che adesso venga a piovere però a questo punto qui non ci resta altro che andare a festeggiare tutti assieme e fare un buon cincine un arrivederci per il prossimo anno a tutti quanti Come amministrazione comunale siamo veramente onorati di aver ospitato questa sera le vecchie Glorie regionali e le vecchie Glorie dell'Udinese Calcio hanno svolto una partita bellissima che è risultato anche se ha poca importanza ma comunque nessuno ci teneva a perdere grazie naturalmente a Carlo Tonezzo per l'organizzazione perché lui come presidente delle vecchie Glorie di Varmo e vecchie Glorie regionali si è dato da fare, noi come amministrazione gli siamo stati vicini il pubblico è stato quello delle grandi occasioni sugli spalti c'era il tifo per una e per l'altra parte una bella giornata di sport che sicuramente cercheremo di ripetere perché ci fa vedere i veri valori del calcio e i veri valori dello sport Dal Medio Friuli per Euro Regione News Marco Mascioli Euro Regioni News